Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto per la Rai, il famoso conduttore è stato colpito da un terribile lutto. Peggior notizia non poteva arrivare per Pino Insegno. L'attore, doppiatore e conduttore di reazione a catena. È morta una persona a lui molto cara, che gli ha permesso di costruire la sua brillante carriera nel mondo dello spettacolo e di avere successo. Domani, mercoledì 18 settembre 2024, avranno luogo i funerali. Purtroppo è morto il padre Armando. L'uomo è morto ieri, lunedì 16 settembre 2024, a Roma, all'età di 92 anni. Al momento non sono note le cause della sua scomparsa. I funerali si terranno domani, mercoledì 18 settembre 2024, alle 11, presso la chiesa parrocchiale di Regina Paces nel quartiere romano di Monteverde. Fa sapere la Repubblica. Pino Insegno è figlio di Armando Insegno, che ha lavorato come vetrinista a Roma. Non si sa molto sulla vita privata del padre dell'attore, se non che è originario di Genova e che si è trasferito a Roma per motivi di lavoro. La madre di Pino Insegno è scomparsa il 15 dicembre 2003. Il padre invece è morto ieri a Roma. L'attore ha sempre parlato benissimo dei genitori, sottolineando quanto siano stati fondamentali per la sua carriera e la sua formazione. L'attore ha sempre parlato benissimo dei genitori, sottolineando quanto siano stati fondamentali per la sua carriera e la sua carriera e la sua carriera.